Non ci mi viene a fare tennis. Non me do care. Non me do care. Non me do care. Non mi do care. Prossimo livello, mille euro. Ribadisco, mille euro. Ascolta Eva e sta al gioco. Ci hai liberato, eh? Ok. Tanto mi scato. Vai. Non vedi che è pure disponibile? Lei è bravissima, è molto sciolta. Certo, certo. Sono disponibile anche io. Racconta a Giorgio che tutti al circolo dicono che il maestro sia un vero playboy. Hanno detto che questo Marco c'era proprio un playboy. Se le faccio in capa, lo sveglio con tutte. Ma ci vuole continuare a giocare a tennis? Vuole che qualcuno gli spezza il braccio? Ha vinto, ha vinto. Comunque parti su, sei subito aggressivo. Sei un sacco strong. Non trovi? Questo lo faccio credino con te davanti a me. Lui a te non piace. Quelli troppo belli non ti piacciono. D'altronde sto con te, Giorgio. Tu che mi conosci da dieci anni. Lo sai che non mi piacciono belloni palestratissimi. Anzi. Anzi raghi di Kelly. Raghi di Kelly! Raghi di Kelly! Se sto a tutti ci sarà un motivo, no? Certo. Continua, forse. Ti accanno qua sulla Cristoforo Colombo. Prendo la macchina e me ne vado. Vado a me! Bellissimo! Ti l'ha scioccato con Marco lì. Vedrai accompagnare a casa lui con le braccia possenti. Il maestro adesso ti chiama in campo per vedere se sei migliorata col servizio. Convinci Giorgio a farti fare due colpi col maestro. Convinciti. Chiara! Chiara! Ma vogliamo andare a fare due colpi? Dai, andiamo a fare due colpi. No, no, sono tu, sono tu. No, però tu mi guardi. Sì! Dai, guardami. Dai, guardami. 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 Dove entro? Salta, che ti riusci. Vai. Amore, muore. Ti ricordo un po'. Ok. Beh, si vede che fuori. Guardami, guarda Giorgio. Urla. Giorgio! Ti piace il servizio che sto facendo? Ti piace il servizio che sto facendo, Giorgio? Ridi, continua a ridere senza senso a tutto quello che dice il maestro. Continua a ridere. Sì. Ma così, eh? Sì. Attenzione Federico a caldo. Ma c'è un fisicaccio, l'altro, ragazzi. Non è quello qua. Attenzione, prendete la mascherina, va. Dai, dai, dai. No, aspetta. Occhio, arriva, arriva, arriva. Così. Fa una cosa, Chiara. Fai gli urletti, adesso, quando compisci la palla. Fai... Con gli urletti viene meglio, però. Asciuga il maestro, che è tutto sudato. Aspetta, però, che sei tutto sudato, prendi freddo. Ah, ah, ah. Respiro. Respiro. Dai, facciamo cosa. Non bene. Poverino, povero Giorgio. Lei è proprio perfida, ragazzina. Tremenda. Dimmi, che c'è? Niente, parla. No, assolutamente. Non ti devo dire niente. Però, posso. Riconosco, ma lo so che c'è qualcosa in sé strano. Dimmi. Parla. Parla. Senti, sono un po' sudato. Mi vuoi asciugare la schiena. Vimi. La questa. No. No. No, ma lo so! Ah,��.